Cosa che non va nell'inceneritore di case passerine? Cosa avete intenzione di fare? Ma non torno nei conti, noi abbiamo bisogno che la politica ascolti di più la scienza e meno il conflitto di interessi. Noi come Movimento 5 Stelle oggi abbiamo chiamato Rossano Ercolini che è un premio Nobel per l'ambiente, è una persona terza rispetto al Movimento, però è un esperto riconosciuto che oggi ci darà dei dati per smontare questa impiantistica e per promuovere la strategia di FITZERO che sta in piedi anche economicamente. Noi oggi spendiamo, abbiamo fatto un conto, 260 euro circa per la gestione dei rifiuti tramite un inceneritore e circa 234 euro se attuassimo le buone pratiche della strategia di FITZERO, quindi anche economicamente non sta in piedi. L'inceneritore oltretutto dovrebbe bruciare circa 50.000 di tonnellate all'anno in più per rispettare i requisiti europei per la produzione di calore, quindi ci chiediamo questi rifiuti da dove dovrebbero venire secondo il piano regionale dei rifiuti, probabilmente da fuori regione, visto anche l'andazzo di come si sta gestendo i rifiuti a livello nazionale con lo sblocco Italia. Quindi è una scelta scellerata, è una scelta irresponsabile. Noi diciamo no agli inceneritori di Casa Passerini, no agli inceneritori di Scarlino, no a tutti gli inceneritori della Toscana. Vogliamo attuare la strategia di FITZERO che si basa su dati scientifici. Politicamente quali saranno le vostre azioni? Ma è portare la regione con le buone esempi, le buone pratiche e con i numeri a fare questa scelta. Noi saremo in opposizione, denunceremo con tutti gli atti ispettivi, faremo le nostre proposte perché la regione adotti la strategia di rifiuti zero. Oggi la regione toscana è la tredicesima regione in Italia per raccolta differenziata. Produciamo 2.600.000 tonnellate di rifiuti solidi urbani e 7 milioni di tonnellate di rifiuti speciali, che è un'altra tematica di cui dovremmo occuparci nel più presto.